benvenuta e benvenuta a questo primo video dedicato ai casi studio del fang shui i casi studio che potrete trovare sul canale si dividono in fang shui quindi proprio applicazione classica del fang shui tradizionale degli esempi di come procedere di come anche magari provare volendo a farsi delle piccole analisi fai da te ovviamente con tutti i limiti di della cosa nel senso solo per avere delle indicazioni generiche poi ci saranno dei casi studio dedicati alla domo teorica nel quale al di là di tutto quello che ovviamente ci giunge dal fang shui e soprattutto anche dal wujing quindi dall'analisi del ciclo naturale delle cose vado ad affiancare anche tutta un'analisi psicologica molto profonda e anche neuropercettiva e soprattutto quella che è un'analisi culturale quindi di quali tipi di messaggi che noi abbiamo introiettato a causa della nostra relazione con la cultura di appartenenza con la società con le persone con cui condividiamo il nostro tempo le nostre giornate e quindi questa parte sulla domo teorica è proprio dedicata a come esistano e come riconoscere anche tutto questo insieme di informazione di messaggio messaggi spesso anche di cose non dette cose non che non passano neppure al nostro livello conscio quindi restano sia a livello subconscio che inconscio più dedicati alla nostra relazione con la casa quindi di fatto la nostra relazione con l'esistenza stessa col pianeta poi ci saranno anche una volta al mese un video molto più potrei definirlo quasi frivolo ma non si parla di cose frivole ma si parla di questioni legate proprio al nostro modo di sentire al nostro modo di essere alla nostra percezione quindi parlando di analisi delle fasi energetiche delle degli aspetti energetici delle varie persone quindi approfondendo quello che è il tema del buzz gli otto le otto posizioni detti anche i quattro pilastri del destino e un po' meno precisamente definita astrologia energetica cinese perché è proprio un tipo di analisi che va a studiare come le dinamiche del ci celeste del ci terrestre del ci umano interagiscono nella nella vita di una persona e come fin dalla nascita ciascuno di noi possa avere delle predisposizioni ben definite come riconoscere come riuscire a trarre il meglio proprio da queste nostre predisposizioni da queste nostre possibilità e soprattutto come evitare eventuali problematiche questo primo video è dedicato alla posizione a come posizionare correttamente il bagua ho già fatto un video approfondimento su youtube questo è un video che ho deciso di lasciare gratuitamente per avere un po' un'idea di come si svolgeranno i miei casi studio questo è il caso studio dedicato al fang shui per questo primo mese di coffee quindi tutti i contenuti che pubblicherò i quattro contenuti e il webinar saranno gratuiti aperti a tutti poi dal prossimo mese chi vorrà iscriversi potrà consultare il materiale quindi iniziamo subito a capire come si posiziona corretta correttamente il bagua o comunque il luopan o come volete definirlo da cosa si parte nell'analisi della spazialità dell'abitazione quindi come posizionare la griglia a tre per tre caselle noi finiamo quindi assieme innanzitutto cosa intendo per bagua quando parliamo di bagua non dobbiamo pensare al subito allo specchio la maggior parte delle persone pensa allo specchio bagua quello che vediamo spesso a seconda della pronuncia quello che vediamo spesso messo fuori da abitazione o altro a protezione di sha o altre forme negative per l'ingresso di casa o comunque per un settore particolare di casa con bagua intendo quindi proprio otto caselle otto forme otto simboli che di fatto corrispondono a quelli che sono i trigrammi quando parliamo di analisi dell'abitazione utilizzando il bagua quindi andiamo ad assegnare una posizione ben precisa rispetto alla posizione geografica quindi la direzione geografica nord sud est ovest e le secondarie utilizzando una griglia a nove caselle quindi sarebbero le otto posizioni dei tre grammi più un campo centrale vedremo poi nel in varie lezioni come analizzare ognuna di queste posizioni secondi i tre grammi quindi la cosiddetta analisi psicogenealogica della casa se guardate sul mio canale youtube c'è già un video una diretta che avevo fatto un webinar dedicato proprio alla psicologia psicogeneologia della casa andiamo quindi a prenderci la nostra griglia a nove caselle e iniziamo a posizionarlo innanzitutto facciamo prima una considerazione quando parliamo di abitazioni su più piani come questo caso in cui abbiamo un piano terra e un primo piano il primo piano da analizzare e il piano che condizionerà maggiormente l'abitazione stessa è sempre il piano più young quindi solitamente la zona giorno o in generale il piano più utilizzato dall'abitazione in questo caso quindi partirò ad analizzare il piano terra quindi il piano di ingresso dove in questo caso vediamo è presente un bagno una cucina e un'ampia sala tipo open space dal quale è possibile salire al piano superiore in questa planimetria notiamo anche che è presente una scala condominiale che però è esterna all'abitazione infatti prestiamo sempre moltissima attenzione quando parliamo di queste cose di non pensare mai che scale terrazze che non siano usate quasi quotidianamente quindi che non siano delle vere e proprie verande dove uno magari passa gran parte del del suo tempo quando parliamo di spazi che non sono prettamente collegati all'interno dell'abitazione quindi ignoriamoli quindi in questo caso il settore dove è posizionata la scala ovviamente sarà un settore che per me non è presente nell'abitazione idem in questo spazio qui quindi se io vado a posizionarli saprò che questi due settori rossi sono da escludere dalla planimetria dall'analisi della planimetria generale dell'abitazione prendiamo quindi la griglia e cerchiamo di posizionarlo correttamente rispetto alla forma stessa dell'abitazione andrò a tracciare i contorni e poi posizionerò sopra la mia griglia di riferimento quindi cosa noterò da questa griglia a prescindere senza prendere assolutamente in considerazione quelle che sono le direzioni spaziali in questa cartina non ho messo nessun riferimento per non creare confusione ma quindi cosa vedo da questa immagine se io vado ad ingrandirla quindi se la rendo più visibile noterò questa cosa cosa vedo allora vedo che ci sono innanzitutto dei settori mancanti la planimetria la il contorno della griglia deve essere sempre corrispondente alle mura della casa una nota se parliamo di abitazioni molto piccole con mura molto spesse potrebbe capitare di dover ridurre ad esempio la il baguale posizionamento della griglia a metà della mura infatti non è mai da considerare né il tutto interno tranne rarissimi casi né il tutto esterno a meno che non sia un muro standard insomma perché a volte soprattutto quando parliamo di metrature molto piccole posizionare leggermente più a destra o leggermente più a sinistra un baguale potrebbe proprio cambiare completamente anche gli esiti di un determinato settore pensiamo anche in questo caso questa parte qua vedete quanto è posizionato al limite il muro potrebbe proprio andare a spostarsi altrove e quindi creare anche un cambio di interpretazione di un determinato settore di casa comunque ritornando al posizionamento quando io ho posizionato quindi la mia griglia cosa andrò a considerare andrò a considerare prima di tutto i settori mancanti cosa sono i settori mancanti quello che ho di cui ho appena parlato quindi una un'area dell'abitazione che non è di competenza dell'abitazione qua rivediamo abbiamo le scale quindi ovviamente questo settore non deve essere preso in considerazione cosa mi fa capire quindi che esiste tutta questa mancanza in questi due settori che le informazioni energetiche di appartenenza di questo settore e le informazioni energetiche ancora di più le informazioni energetiche di queste dove in più c'è anche una scalinata quindi un movimento del ci e un muro che divide un settore dall'altro sono dei settori estremamente sacrificati quindi questi due settori proprio potrebbero portare determinate informazioni agli abitanti della casa nel ovviamente tutti ci augureremo di avere delle piante sempre così regolari ma come vedremo anche negli esempi seguenti non è sempre così rettangolare comunque il quadrato per quanto presenti delle mancanze quando io ho posizionato quindi la mia griglia devo andare a fare l'analisi settore per settore per vedere quali possono essere le informazioni di questi presenti in quest'area da questa planimetria cosa noterò se noi assegniamo virtualmente visto che non ci sono le direzioni una numerazione dall'uno al nove cosa vedremo vedremo che il settore uno è e ancora di più il settore quattro sono dei settori molto sani molto attivi perché presentano questo una finestra uno spazio che è anche più ampio del suo perché vedete quanto si sente l'impressione che questo settore tenda a muoversi tende a estendersi visto che il suo settore vicino al settore due in realtà è un bagno quindi una funzione secondaria quindi una stanza meno attiva della casa e soprattutto è anche tagliato in più parti è come se fosse un po ridotto quindi nell'analisi noi andremo proprio a cercare di sentire ogni settore dell'abitazione come si esprime questo settore è un settore in espansione perché ha energia che proviene dall'esterno e dà quell'impressione di potersi espandere sia verso questa direzione ma anche soprattutto verso la direzione laterale il suo contrario proprio di esempio è il settore attaccato perché vedremo che se anche vedete che tende un po sbordare nel settore seguente fatto è un settore molto depotenziato perché presenta una funzione secondaria presenta delle murature che sembrano rinchiudere cioè creare un sottinsieme creare dei nuovi confini per questo settore e tutto questo tipo di informazione come parleremo bene quando si parlerà di trigrammi di psicogeneologia della casa danno tantissime informazioni delle dinamiche che sono in atto o che possono diventare in atto all'interno di un'abitazione infatti l'analisi su planimetria che non può essere mai un'analisi esclusiva ricordo sempre che è impossibile fare un'analisi di geobiologia o di fang fui senza presentarsi sul posto perché per quanto uno possa avere capacità intuitive per quanto uno possa avere tutte le foto tutte le le indicazioni le planimetrie quant'altro sentire un luogo sentire come il luogo si manifesta è tutto un altro tipo di informazione tutto un'altra tutto un altro tipo di analisi ed è l'unico tipo di analisi che può essere accettata questo tipo di valutazione invece così un po su planimetria utilizzando le foto e altro possono invece essere fatte per delle indicazioni molto meno collegate all'energetica pura ma più magari alla scelta dei colori a quindi a un interior decor percettivo quindi la scelta di arredamento e colori che però sia funzionale anche a quella che è lo stato della casa lo stato di abitazione l'esposizione stessa dell'abitazione perché si andrà a valutare molto bene vedendo dove sono presenti le finestre e vedendo com'è orientata una casa rispetto allo spazio vedere quale tipo di informazione luminosa può giungere a seconda delle varie dei momenti in cui del giorno in cui il il sole riesce ad entrare direttamente in un determinato settore procedendo nell'osservazione di questa planimetria vedremo che questo settore il settore 3 invece è abbastanza adeguato nel senso appresenta sempre una finestra ha una mancanza veramente minima che potrebbe quasi creare un confine quindi può essere è comunque considerabile un buon settore questo settore quindi il settore 6 invece è molto attivo se anche questo potrebbe espandersi in varie direzioni e questo si nota ancora di più perché il settore 9 in realtà è proprio sacrificatissimo è tagliato per più della metà è mancante per più della metà e non presenta neppure aperture perché questo è un muro continuo quindi questo settore 6 tenderebbe persino a schiacciare ancora di più il settore 9 e allora andiamo a cercare di capire insomma quali potrebbero essere le dinamiche tra nel momento in cui avremo le direzioni spaziali le dinamiche tra le informazioni di un determinata di una determinata direzione e anche il ruolo sociale ad essa corrispondente quindi il ruolo familiare potremmo parlare di ruolo della madre del padre figli o quello o quant'altro anche eredi antenati tutta proprio la il nostro nucleo umano il nucleo umano che gravita intorno agli abitanti di questa abitazione il centro è abbastanza aperto il centro permette di comunicare quindi è un centro tendenzialmente buono non presenta chiusure cioè bisognerebbe capire un attimo cos'è questa colonna potrebbe essere un camino potrebbe essere una colonna ma credo che sia una colonna strutturale e ma in linea di massima proprio non presenta grossi problemi potrebbe essere sarebbe stato un po' più problematico se questo muro qui non present non avesse presentato un'apertura non avesse presentato una porta perché avrebbe potuto rappresentare una netta divisione una netta chiusura che parte proprio dal dal retro della casa quella che è la tartaruga della casa tra il l'espressione più femminile quindi la tigre bianca e l'espressione più young maschile quindi il drago verde perché infatti quando noi abbiamo posizionato questo bagua non solo andremo a valutare settore per settore è un settore in espansione è un settore sacrificato è un settore tagliato è un settore totalmente a assente o quasi totalmente assente come questo è un settore di movimento a volte potrebbe capitare che una scala ricada completamente soprattutto se sono scale che che ripiegano su se stesse insomma potrebbero occupare un intero settore quindi quel settore è funzionale non è funzionale che tipo di informazione mi sta portando e allo stesso tempo dobbiamo valutare anche secondo quelli che sono i quattro animali celesti che proprio questo tipo di griglia può aiutare molto a ad avere nuovamente un colpo d'occhio infatti noi avremo una fenicia perché ho definito che questa parte quindi la parte verso l'alto è la fenicia perché se io vado ad analizzare la parte dove è presente la scala e togliamo questo per vedere che l'ingresso di casa è questo qui c'è evidentemente un pianerottolo e potrebbe essere anche visto che si vede che ci sono due porte marcate potrebbe essere l'ingresso principale di palazzo e quello l'ingresso della casa comunque io ho definito che questa è la tartaruga perché se vedete presenta funzioni di passaggio funzioni secondarie la parte con più esposizione è quella davanti perché lateralmente si ho delle finestre questa sembra anche una porta finestra perché ha segnato il passaggio ma comunque la maggior parte delle aperture ce le abbiamo di qua e avendo la maggior parte delle aperture di qua andremo a definire proprio che l'affaccio la fronte della casa si trova in questa direzione mentre la tartaruga della stessa posizionata qui dove se seguite la linea esiste solamente questa finestra che tra l'altro è in corrispondenza con una scala quindi io avrò definito che la mia casa è orientata in questa direzione quindi guarda verso di qua se guardo verso di qua cosa avrò avrò tutta questa parte che mi sta parlando che mi sta dando informazioni su quella che è il passato della mia abitazione su quella che è la la tartaruga quindi una volta definita la tartaruga andrò a vedere le varie informazioni che mi arrivano anche nell'analisi dei quattro animali celesti quindi vedrò una mia tartaruga nera a parte posteriore che mi darà delle informazioni sul mio passato sulla mia famiglia di origine sulla mia città di origine qua cosa ci dice ci dice che che manca qualcosa effettivamente probabilmente qualcosa è stato perso o sono state perse occasioni è stato perso risorse cioè là è da analizzare proprio man mano a vedere qual è la dinamica della vita di chi ha scelto l'abitazione o di chi sta vivendo o di chi ha vissuto in questa abitazione che questa cosa riguarda soprattutto il lato della tigre bianca quindi molto probabilmente c'è una grossa mancanza in quello che è l'ambito femminile l'ambito yin che riguarda il passato se si parla di una casa di una coppia probabilmente è legata alla donna oppure è comunque legato all'idea del femminile dell'ambito creativo ricordiamo sempre che la tigre bianca e il drago verde rappresentano perfettamente quelli che sono i nostri emisferi cerebrali l'emisfero destra l'emisfero yin l'emisfero creativo quello che comanda la parte sinistra del nostro corpo l'emisfero sinistro invece è quello è il pensiero logico il pensiero attivo il pensiero più young il pensiero matematico quello che controlla il lato destro del nostro corpo invece e quindi avremo a destra sappiamo che sono speculari gli emisferi per il funzionamento corporeo avremo a destra il lato della tigre bianca e a sinistra quello del drago verde quindi facendo questa analisi vedremo che dal lato della tigre soprattutto nel passato c'è qualcosa che non va dopo la tigre sembra sempre un po separata da questo drago e quindi proprio le le murature le strutture interne ci danno questa informazione di cui come i vari aspetti del nostro sentire in realtà comunichino tra loro o come le persone che vengono rappresentate da un determinato settore comunichino tra loro comunicano tra loro e se noi invece andiamo a vedere il secondo piano noi abbiamo adesso abbiamo visto il piano terra di questa casa ma se noi andiamo a vedere il secondo piano noi possiamo ovviamente fare lo stesso identico ragionamento anche con quell'altro piano per trovare ancora altre informazioni ad esempio questo piano lo ingrandiamo così e dopo lo portiamo in misura nuovamente nuovamente avremo questo settore delle scale che è mancante che non deve essere considerato perché dopo vi è sempre l'accesso da qui e in questo caso vedremo sempre che ci sono dei settori più favoriti come questo come questo quindi l'uno e il tre dei settori nuovamente un po costretti quindi il settore 2 questo questa mancanza di comunicazione questo muro proprio che separa la tartaruga del piano dalla dalla parte anteriore dalla finice del piano che però non essendo presente in sul piano principale sarà meno attiva rispetto a una conformazione in cui trovassimo proprio una separazione tra il retro e l'affaccio molto più marcata in questo caso potrebbe essere fatto una considerazione nel senso al primo piano ci sono un sacco di balconi c'è un balcone un altro e un altro quindi se noi osserviamo il primo piano ci verrebbe molto più spontaneo dire che la casa non guarda in questa direzione ma bensì guarda in questa direzione essendo un caso su carta quindi non è un caso reale sono degli esempi che ho tirato fuori per poter mostrare come posizionare il bagua dobbiamo valutare in realtà se questo questo è il piano più vissuto o è questo il piano più vissuto se ad esempio qua avessimo il salotto avessimo uno studio nel quale si lavora anche o altro ovviamente avremo un altro tipo di orientamento rispetto a questo perché qui ipoteticamente vedremo che sono questi quelli dominanti perché sono presenti più apertura e sono presenti soprattutto le funzioni cioè le funzioni secondarie qua vediamo il gabinetto proprio il bici classico è posizionato di qua quindi potrebbe far propendere per un settore con delle camere camere e probabilmente altre due camere anche qua perché se io vado a postare questo settore vedete che questa linea va a corrispondere esattamente con la parte interna del della fenicia quindi con la fenicia interna dell'abitazione e sembrerà strano ma se su tantissimi casi è molto probabile trovare proprio che la suddivisione della griglia vada a corrispondere con delle murature interne questo rende ancora più marcate le caratteristiche collegate a un determinato settore in una determinata direzione ma anche queste cose proprio le approfondiremo meglio con i casi studio studiando proprio direzione per direzione che tipo di informazione dà e che tipo di azioni si possono compiere per correggere eventuali difetti di planimetria tuttavia come dicevo prima è sempre bello quando troviamo queste planimetrie che magari hanno una mancanza oppure hanno un'aggiunta cos'è un'aggiunta un'aggiunta in realtà e adesso la vedremo con una planimetria irregolare sono dei settori che in realtà sporgono ma non occupano più di un terzo di un palazzo se quindi avessi ad esempio qua una punta che viene fuori scrive un'estensione se occupa più di un terzo del palazzo in realtà il palazzo si espande lui e dovremmo spostare proprio la dovremmo spostare la griglia dovrebbe considerarla comunque una mancanza infatti vediamo ad esempio questo caso studio se noi ipotizziamo che questo balcone qua in alto in realtà sia una veranda e utilizzata tutti i giorni vedete sembra un balcone di muratura potrebbe essere tipo un luogo di servizio o un piccolo disimpegno vedete questo anche delle murature molto larghe quindi qua lo metterò più o meno a metà del muro se io vado a vedere questa planimetria e questo e questo sono due balconi esclusivamente esterni come nel caso precedente non lo considero cioè nel senso lo lascio posizionato così com'è e lascio esterni i balconi se invece ad esempio questo balcone qui adesso lo posiziono correttamente invece venisse usato tutto tutti i giorni potrebbe essere non un'estensione vedete che occupa quasi tutto un palazzo cioè tutta una parte la parte superiore di questo palazzo e quindi noi avremo nuovamente le nostre famose mancanze come avevamo visto prima facciamole di colore rosso così sappiamo che è una mancanza noi avremo nuovamente una mancanza qui e una mancanza nel settore vicino perché anche qui sarebbe tutto mancante e quindi avremo di nuovo una situazione come quella precedente nel quale analizzeremo proprio un settore che è veramente poco attivo cioè che è un po' sacrificato se invece il balcone facciamo l'esempio che il balcone non sia più posizionato così ma magari sia facciamo finta che sia un balcone molto più piccolo se il balcone fosse stato in realtà di questa grandezza ok quindi molto più ridotto quelle non sarebbero state delle mancanze perché la planimetria l'avremmo spostata molto più in giù quindi avremmo fatto il nostro avremmo posizionato così il nostro bagua e quello invece di essere una mancanza sarebbe diventata un'aggiunta quindi io potrei segnarmi questo settore come aggiunta cosa significa un settore come un'aggiunta? un'aggiunta questa sarebbe un'aggiunta a questa al settore numero 2 un'aggiunta in realtà è come se fosse un'energia di backup un'energia di una riserva energetica o un aiuto energetico quindi le informazioni collegate a quel determinato settore potrebbero essere molto più presenti e quindi avere persino un bonus avere qualcosa in più a volte si possono trovare dei settori che hanno delle mancanze e anche delle aggiunte cosa rappresenta questo? rappresenta il tipo di informazione dopo là uno fa l'analisi dettagliata uno va a fare proprio la valutazione insomma di posizionamento rispetto alle direzioni geografiche e quindi avremo un'informazione che se c'è qualcosa che ci sta limitando in quel determinato ambito di vita ma c'è qualcos'altro in realtà che ci permette di sopperire a tali mancanze a tali limitazioni e questo è proprio l'effetto di un'estensione ripeto e tutto questo era da valutare solo nel caso questo fantastico balcone sia proprio una veranda chiusa utilizzata tutti i giorni come magari dispensa per questa cucina cosa notiamo su questa planimetria? ad esempio notiamo quanto in realtà qua è sacrificato il centro noi vediamo un centro in cui la gente quasi ci gira attorno e non può neanche completare il giro e che sarebbe anche peggio se completasse il giro perché sarebbe una conformazione proprio detta la famosa ruota del criceto nel senso che uno non riuscirà mai a connettersi a se stesso perché continua a girarci intorno però in ogni caso capiamo che in questa situazione noi abbiamo un buon settore che è in espansione vedete come si sente l'espansione del settore un altro settore in espansione un settore abbastanza regolare e poi dei settori un po' più sacrificati immaginiamoci che l'affaccio in questo caso vediamo la parte l'affaccio l'affaccio potrebbe essere questa volta così quindi di qua perché dico che potrebbe essere di qua perché si uno dice ma guarda che qua non ci sono aperture è tutto chiuso sì però guarda quante aperture sono presenti qua e come questo settore proprio si configuri un po' come i tipici retri quindi con una dispensa pensiamo cioè io ipotizzo sempre che questa sia una sorta di dispensa un che quindi allora ripetiamo che se fosse così grande andrebbe a sta grandezza e con degli altri funzioni come il bagno delle stanze un po' più piccola e quindi potrebbe essere il retro anche perché vedendo qua c'è l'ascensore quindi probabilmente questo è proprio una specie di cavedio o una zona centrale dell'area condominiale in questo caso quindi cosa avremo avremo se è in questa direzione se la casa fosse in questa direzione avremo un futuro molto migliore rispetto al passato queste sono le tipiche case che uno magari sceglie in un periodo di profonda trasformazione di profondo cambiamento personale e che va proprio a migliorare la casa può andare a migliorare quella che è la condizione di vita ripeto senza analizzare dopo nel dettaglio tutte queste separazioni interne tuttavia dice anche proprio cioè parla anche di un di un forte contrasto però nella comunicazione nello scambio perché l'area centrale di un'abitazione non dovrebbe mai essere in questo condizioni questo si chiama proprio il centro rinchiuso se vedete questo probabilmente è un un armadio o un disimpegno soprattutto nella nostra architettura anni sessanta cioè suppongo sia una cada anni sessanta vedendo il tipo di planimetria era molto comune proprio avere questi disimpegni in centro stanza che permettevano un po' di suddividere ancora di più le stanze quando magari c'era bisogno di avere tante stanze per più persone che abitavano e però vedete come per giungere al centro che in realtà dovrebbe avere sempre un certo respiro io entro nell'abitazione devo superare un altro un'altra porta e per accedere a qualsiasi parte io devo continuare a superare delle porte ovviamente la metratura condiziona molto questa non sembra una casa grandissima come estensione per cui si dovrebbe ancora di più sentire questo senso dove tutto è un po' sacrificato e questa è proprio un'immagine di come magari qualcuno ha avuto un passato un po' difficoltoso un po' affettato in un certo senso fa fatica a centrarsi per questa cosa però ha delle buone possibilità di espansione perché davanti invece è tutto molto aperto però con un grossissimo blocco e questo si nota proprio tra il lato destro e il lato sinistro del dell'abitazione quindi tra quella che è la la tigre bianca che in questo caso si trova se è orientata così si troverà da questo lato e il drago verde che si troverà dal lato opposto corrispondente anche questa però è una planimetria da sorridere nel senso semplice da analizzare quando ci troviamo invece davanti a queste planimetrie già aumentano un po' di più i dubbi sul posizionamento come metto una griglia su questa planimetria intanto la radrizzo il più possibile è un po' irregolare perché è una una stampa quindi non c'è una fotocopia quindi non è proprio precisa precisa quindi cerchiamo di metterla più precisa possibile prendo di nuovo la mia griglietta come faccio? allora innanzitutto cerchiamo di trovare le pareti più regolari che in questo caso sono queste due ok poi io cosa farò io dovrò valutare questa è una mancanza o è un'estensione occupa tutto un settore cioè occupa un intero settore quindi questa potrebbe essere veramente la causa di una grande mancanza in questo caso io posizionerei la planimetria in questo modo perché ragione ok anche questo risulta essere una mancanza quindi la planimetria potrebbe andare ancora più su ipoteticamente tuttavia vedendo è presente una finestra sembra una zona molto attiva perché vedete che c'è la finestra quindi potrebbe essere più considerata essendo poi così un po' a spicchio angolare potrebbe essere più considerata un'estensione e diciamo che in questo caso noi avremo torniamo a segnarlo con il rosso noi avremo una mancanza enorme che riguarda tantissimi settori posizioniamo indietro e così si capisce in questa abitazione due settori sono completamente mancanti e anzi quasi spingono cioè fanno sentire prepontentemente la loro mancanza probabilmente uno dei settori migliori potrebbe essere questo perché ha a sua volta un'estensione vedete c'è questa estensione qua e anche questa estensione qua che per quanto irregolare comunque sembra molto estesa una cosa che dà colpo d'occhio questa planimetria è la sensazione quasi di due corpi che si sono incastrati cioè c'è questo corpo che è molto preponderante forte e che sembra quasi incastrato sul resto dell'abitazione che di per sé sarebbe una piccola casetta che se ne starebbe anche bene solamente con una forma ridotta così perché sembra una casa molto grande inoltre se vedete qui è scritto parti comuni cosa vuol dire parti comuni che abbiamo un altro settore mancante che è più o meno questo quindi rendetevi conto così a colpo d'occhio quanto è il regolare questa planimetria fortunatamente non ha pareti oblique interne a parte quegli aggetti esterni ma questa planimetria fa capire come sembra sia una di quei casi che vedremo in psicogeneologia dell'incastro di due entità di due persone potrebbero essere i due abitanti che hanno cercato un po' di far quadrare la loro esistenza in un modo o nell'altro però con una dominanza fortissima se immaginiamo che questo sia il retro dell'abitazione e questo sia l'affaccio perché se vedete qua è tutto aperto c'è il terrazzo quindi è molto più probabile che il retro in questo caso si trovi di qua perché in realtà se guardate credo che siano delle case a schiera perché né di qua né di qua è presente nessuna apertura cosa ci racconta questa storia che se è orientata quindi l'abitazione ecco l'abitazione è così se è orientata l'abitazione è così cosa scopriamo da questa valutazione capiamo che la mancanza più grande più forte si presenta dal lato del drago verde che in questa direzione avremo il drago verde di qua mentre abbiamo questa tigre bianca enorme preponderante molto forte che tende ad innestarsi e tende anche soprattutto a definire un po' l'andamento perché l'ingresso della casa è qui si trova al centro però comunque un po' sbilanciato verso il lato della tigra quindi anche in questa planimetria vedremo che presenta sia delle aggiunte come può essere questa e questo piccolo aggetto della stanza probabilmente sarà una nuova veranda perché va in continuazione col terrazzo una veranda chiusa che va in continuazione col terrazzo e dopo invece tutto un altro lato molto sacrificato cerchiamo di non fare mai l'errore di pensare di ridurre la nostra planimetria ad esempio se io facessi così eccolo qua dicendo beh faccio una planimetria di questo che avrebbe quindi solo una piccola mancanza qui e il resto sono tutte aggiunte no il resto non sono assolutamente delle aggiunte perché sono talmente tanto presenti da valutare cioè che è la casa ad avere una mancanza non che ci sono delle aggiunte l'unico caso in cui io potrei utilizzare una planimetria del genere in cui vi sarebbe una mancanza qua e questa stanza questa stanza questa stanza bagno e wc vedete c'è anche qua ci sarebbe una mancanza c'è credo un chiostrino e se questa zona avesse tutt'altro ruolo rispetto a questa cioè se in realtà pensiamo a torniamo questo se pensiamo ad esempio a l'abitazione fatta così ok e questo in realtà come un altro corpo legato all'abitazione tipo lo studio o il negozio dei proprietari della casa ecco ovviamente la avremo da fare prima la valutazione dell'abitazione con questa con questo posizionamento e dopo andremo a fare una seconda valutazione prendendo il esclusivamente il secondo corpo che sarà il corpo quello là del negozio del della funzione secondaria e in questo caso potremmo espanderlo anche in questa maniera mi sia un attimo spostata la grafica e non riesco più a prenderla correttamente comunque credo abbiate capito quindi faremo un secondo bagua per analizzare quell'altro corpo della casa se è dedicata a una funzione differente se no sfortunatamente questa è proprio una casa estremamente sconsigliata sia perché è formata da due corpi che si incastrano uno con l'altro sia presenta moltissime mancanze che vanno fino dentro proprio al che vanno fino dentro al vedete questa va a finire proprio dentro anche il corpo principale dell'abitazione se ritorniamo con questo tipo di posizionamento che lo vede proprio anche un centro quasi completamente mancante io se vedessi una planimetria così la prima cosa che penserei è proprio la mancanza di comunicazione e grandi sacrifici nella comunicazione tra un pensiero logico il pensiero emotivo tra il maschile e il femminile della casa situazioni del genere ancora più complicate sono le situazioni in cui non solo sono presenti delle mancanze come in questo caso perché se io vado a posizionare qua la mia fantastica griglia adesso io vado a posizionarla così me la porto ai contorni dell'abitazione ecco qua e quindi vado a posizionarla in questo modo e nuovamente se in questo caso esiste un altro innesto ma che fortunatamente sembra escluso dall'abitazione nel senso in questo caso c'è un ascensore e le scale credo condominiali o comunque le scale dell'abitazione esterne se ad esempio invece questo settore fosse stato interno avremmo avuto un caso in cui esistono anche delle inclinazioni differenti dei muri infatti quando noi valutiamo l'abitazione è sempre importantissimo controllare che le planimetrie come questa come quelle che vi ho mostrato come queste che sono estremamente regolari non abbiano mura angolari questa ad esempio se vedete queste mura qua grandisco per farlo vedere meglio qua vedete che sono presenti degli angoli in questo caso ovviamente sono secondari quindi tutti capiranno subito che in ogni caso il posizionamento corretto della planimetria e questo non è qualcosa di diverso e scusate il posizionamento della griglia sarà sempre questo ma ci possono essere dei casi e ve li ho mostrati se guardate nel mio canale youtube posizionare il baguà dove vi spiego come posizionarlo geograficamente e bisogna proprio sempre valutare la maggior parte delle pareti dell'abitazione cosa si intende si intende che se io ho un'abitazione io devo sempre controllare in che direzione vanno i muri se tutti i muri sono paralleli e perpendicolari non c'è nessun problema andremo a posizionarlo ad esempio anche una planimetria un po' più complicata con tante mancanze come questa vediamo la casa finisce qua adesso la rimpicciolisco ok vedete quante mancanze sono presenti qua c'è una mancanza grande qui segniamo in rosso così la vediamo subito e poi ci sono le mancanze anche qui qui in alto ok qua invece c'è l'ingresso quindi questa comunque è una planimetria facile da posizionare la possiamo analizzare possiamo capire questo settore ecco questo è un settore ad esempio di quello che dicevo prima è un settore che qua sotto è un po' più sacrificato perché vedete se lo sposti indietro si vede ancora meglio vedete il settore finisce qua quindi manca qualcosa manca un bel pezzo però si espande cioè nel senso oltre ad avere una finestra che quindi collega questa mancanza ricordate sempre che se io in un settore come in questo caso ho una mancanza ma una finestra la mancanza è molto limitata è molto debole perché ragione perché comunque l'informazione spaziale in quella direzione mi arriva prepotentemente dall'esterno quindi ho un approccio un apporto di c celeste o comunque di c comunque esterno che si sente molto al contrario porto indietro anche questo per far vedere meglio vedete che qui non è presente nessuna finestra quindi questo povero settore oltre ad essere sacrificato non si espande perché comunque qua c'è il muro c'è l'ingresso quindi è un settore attivo ma ristretto e qui non ci sono finestre quindi mi manca fortemente questo tipo di informazione energetica l'esposizione in questa direzione e quindi di volta in volta se noi dobbiamo posizionare un baguà dobbiamo prestare attenzione proprio a tutti questi dettagli sono mancanze non sono mancanze sono estensioni non sono estensioni le direzioni delle pareti si capiscono facilmente sono perpendicolari non sono perpendicolari se sono oblique se ad esempio io ho una casa è un più difficile da trovare ma se io ho una casa a pianta anche rettangolare ma in cui le pareti non sono perpendicolari quale sarà il tipo di informazione che mi proviene e mi proviene a parte un'informazione di un certo senso di disallineamento perché andrà a creare delle mancanze se questa casa ad esempio avesse tutte le pareti oblique per quanto la planimetria sia correttamente posizionata così cosa dovrei fare? dovrei espandere la mia griglia e ad esempio facciamo finta che le pareti hanno questa direzione e cercare proprio il confine della griglia così cioè quindi andare a vedere quali sono gli estremi dell'abitazione qual è il il minimo quadrato possibile che includa tutte le le pareti di una casa e questo cosa succede? questo permette quindi di di creare una mappatura corretta che però avrebbe mancanza in qualsiasi direzione inoltre proprio a livello puramente percettivo sconsiglio sempre le pareti irregolari perché comunque il nostro cervello quando vede pareti ad angoli acuti tende ad avere un'informazione di ristrettezza di qualcosa che cerca di schiacciarti perché sei in una stanza che dà l'impressione che si sta chiudendo mentre le pareti ad angoli ottusi potrebbero invece dare un po' un senso di spaisamento perché parliamo di una stanza che dà l'impressione di aprirsi quindi di non essere solida e stabile come un cubo come un angolo e soprattutto perché ragione perché in ogni caso il nostro cervello quando vede un cubo quando vede un angolo a 90 gradi ha una fortissima informazione di stabilità di fatto il quadrangolo e la sua versione 3D quindi il cubo sono considerate le forme proprio più stabili in assoluto e anche il nostro cervello volente e non lente riceve quel tipo di informazione quindi concludiamo qui il il primo caso studio il primo esempio di analisi del caso studio e vi invito a fare tantissima pratica perché non è semplice posizionare il bagua in modo corretto per essere sicuri sicuri che il bagua è stato posizionato giusto ovviamente è sempre meglio la visita sul posto però in ogni caso dobbiamo fare anche degli interventi correttivi limitati come una scelta di colori per l'interior decor quindi non una valutazione energetica pura come con il fang shui o una una valutazione ancora più avanzata che includa anche altri elementi ma per una valutazione di base proprio consiglio sempre di fare molto esercizio proprio per imparare a leggere gli spazi e nel video numero 3 di questo mese andremo a vedere con un elenco quindi che riprende il tema della psicogeneologia trovate il link in descrizione del di un video in cui c'è del webinar quello dove avevo proprio parlato di psicogeneologia e nel prossimo video quindi riusciremo a capire queste informazioni espanso non espanso tagliato non comunicante in aggiunta in mancanza possono essere applicate proprio all'analisi genealogica degli abitanti o l'analisi espressiva delle caratteristiche che una determinata direzione una determinata esposizione geografica trasmette al nostro al nostro essere ricordo sempre che potete trovare tanti approfondimenti link e quant'altro su sia sul mio sito quindi domoteorica punto it sia sul mio canale telegram che si chiama domoteorica info ciao alla prossima e grazie di avermi ascoltato grazie a tutti